Buon appetito, buon appetito signori, buon appetito ragazzi, buon appetito. Buon appetito, buon appetito, buon appetito, Antonella, tutto ok? Io mangio, io sono autista, tutto ok? Perfetto? Bene, grazie. Buon appetito, buon appetito, buon appetito, buon appetito ragazzi, buon appetito, se volete mangiare più io vi do più, io ce l'ho. Questi sono in più, hai già? Basta questo, finito. Ok, grazie, buon appetito, buon appetito ragazzi, tutto ok? Perfetto? Grazie, buon appetito Adele, buon appetito, buon appetito ragazzi, buon appetito. Grazie, grazie. Sì? Ho questo qua che non è più. Ok, quella che è roba buona, sì, metti qua, noi possiamo dare, ci sono le gente, possiamo lasciare così. Eh? Ok. 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 Grazie a tutti